ultima giornata girone di europei sk spagna turchia mi scusi signore ragione un creatino ecco le scusiamo l'incomprensione tra arbitro e cameraman però evitiamo danni schiaffo però è che lo sai ragazzi capitani per favore i due capitani ragazzi il fischietto per il campo ok sceglierei il campo vuoi uguale? va bene questo inizio di primo tempo tra turchia e spagna 0 a 0 il parziale quando sono trascorsi pochi minuti all'inizio del match inizio di nuovo inizio di nuovo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.